Montepagano, chiesa colpita dal fulmine, evacuate quattro famiglie, Gianluca Ginoble, sistematela presto. Maltempo, Pescara il giorno dopo la bomba d'acqua, il COC resta aperto. Teramo, salita Izzone, incontro con Ruzzoreti per sbloccare i lavori, a novembre pronto l'ipogeo. Giulianova, 400 mila euro dalla regione per le opere di dragaggio del porto. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Con un'ordinanza firmata nella tarda seranta di ieri, il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, ha deciso di far sgomberare quattro case nei pressi della chiesa di Montepagano, colpita ieri da un fulmine. Le famiglie sgomberate sono state sistemate in una struttura ricettiva ed è stato immediatamente aperto il COC, il servizio. Il fulmine caduto ieri sulla lanterna della chiesa Santissima annunziata di Montepagano e che ha causato la caduta poi di detriti all'interno della chiesa e al di fuori, ha spinto il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, a firmare un'ordinanza per l'apertura del COC, ma soprattutto per lo sgombero di quattro unità abitative che alloggiano proprio dinanzi la parrocchia, oltre che interdire due strade del borgo storico. A Montepagano con questa avversità meteorologica una parte del torrino e della cupola oggi danneggiata è messa in sicurezza, ci ha imposto un'ordinanza prima per l'istituzione del COC per l'emergenza, ma anche poi interdire con un'ordinanza specifica l'utilizzo della chiesa, delle vie limitrofe e appunto all'ingresso ad alcune unità abitative che abbiamo prontamente già da ieri notte collocato in una struttura e stiamo oggi in fase di predisposizione di preventivi per far sì che ciò possa essere anche nel tempo garantito. È importante, l'abbiamo chiesto subito alla Curia, di intervenire per la messa in sicurezza, oltre che poi, questo ovviamente sarà coinvolta poi la sovrintendenza, perché questo è un bene importante a livello artistico, culturale, quindi storico, ma intanto è necessario mettere in sicurezza rapidamente sia appunto la cupola stessa che potrebbe con altri eventi del genere avere altre avversità, altri speriamo non crolli ma qualcosa di simile e a questo punto anche la via limitrofa. Questo per noi il tempo è fondamentale, ieri sera ho incontrato durante la consegna della lettera pastorale il Vescovo Monsignor Leuzzi al quale ho manifestato questa volontà e mi ha dato grande disponibilità di azione rapida. Ci sarà necessità al seguito di questi interventi che immagino che la parrocchia per il tramite della curia dovrà affidare a ditta specializzata. Ecco, una volta fatti questi lavori di messa in sicurezza, poi bisognerà rifare, rieffettuare un sopralluogo e certificare intanto l'agibilità della stessa per poi ovviamente ragionare in un'ottica di riparazione e di ricostruzione. È un vero e proprio simbolo per il resente di Monte Pagano, la Chiesa Santissima annunziata risalente al 1400. E c'è un paganese famoso, Gianluca Ginobili, il cantante del volo, che rivolge un appello alle autorità e dice ricostruite presto, sistemate presto la Chiesa. Sentiamo. Un timido sole qui a Monte Pagano ha aperto la giornata appunto qui nel borgo storico di Roseto, degli Abruzzi, dopo la tristissima giornata di ieri in cui un pulmine ha colpito letteralmente la lanterna della Chiesa Santissima annunziata, qui proprio vicino a noi a un centinaio di metri. Noi abbiamo ascoltato alcuni residenti che hanno espresso il loro dolore, seppur in maniera composta, tra questi Gianluca Ginobili, il cantante del gruppo Il Volo, che abita proprio qui vicino, che di fatto ha fatto anche un appello alle istituzioni per velocizzare il tutto. Quello che bisogna fare è sicuramente un appello alle autorità, perché come sapete ieri mattina un violento fulmine ha colpito la Chiesa di Monte Pagano, a due passi da dove siamo in questo momento, scaricando tutta la forza sul lanternino che sovrasta la grande cupola e ha causato gravissimi danni. È un momento molto triste per la nostra comunità, poiché la Chiesa, edificata nella seconda metà del Seicento, è un simbolo del nostro territorio, non solo per Monte Pagano, ma per Roseto degli Abruzzi e per tutto l'Abruzzo. che è una delle più importanti della zona, quindi ci tengo a fare questo appello alle autorità competenti affinché si intervenga il più presto per iniziare i lavori di ripristino e restituire alla comunità questo prezioso patrimonio. La Chiesa è un punto di riferimento delle collettività di Monte Pagano, è un punto storico del 1600 che è molto importante per questa collettività. Rappresenta non solo la storia, ma tutto quello che effettivamente vive dentro. Quando i turisti vengono e si meravigliano come mai un paese così piccolo possa avere una Chiesa così grande. Quindi è una Chiesa piena di storie e di testimonianze. Ercole Ginobble invece ci racconta i momenti dopo la caduta del fulmine. Lui è stato uno dei primissimi ad entrare all'interno della Chiesa, grazie al suo video diventato ormai virale. Stavamo al bar a prendere un caffè con un amico, entra una coppia di coniugi toscani, ha detto che erano appena usciti dalla Chiesa, però c'erano tutti mattoni e pietre per terra. Quindi noi ci siamo subito allarmati, siamo entrati dentro per verificare effettivamente il racconto di queste persone e abbiamo trovato poi quello che si è visto nel video che poi è stato pubblicato. Per noi è veramente stato un colpo forte vedere questa nostra Chiesa simbolo della nostra comunità, della nostra cultura. Nonostante alcune criticità, la città di Pescara ha saputo reagire all'eccezionale pioggia di ieri questa mattina. Il report della vice sindaco e degli assessori all'ambiente e alla protezione civile. Sentiamo. C'è sole questa mattina a Pescara, reduce dall'eccezionale pioggia di ieri. C'era un'allerta gialla, poi la bomba d'acqua che ha sorpreso tutti, come spiega la vice sindaco Carota. Un quantitativo corrispondente alla pioggia che cade solitamente nel mese più piovoso dell'anno, oltre 93 millimetri di pioggia. Quindi chiaramente è un evento straordinario di fronte al quale comunque tutta la macchina amministrativa si è impegnata immediatamente. Un'eccezionalità che la città, la protezione civile, la macchina dei soccorsi hanno saputo affrontare al di là delle strumentalizzazioni politiche, le critiche social. Sui tombini saltati l'assessore Orta fa notare. Nel 9 agosto già Ambiente aveva iniziato la sua attività di pulizia dei tombini su parecchie strade. Io ho un elenco di strade che sono state fatte, tra cui anche via del circuito, dove i tombini sono stati puliti non solo nella via principale, ma anche nelle vie di Mitrofe. Quindi un'attività che viene precedentemente, viene da prima e poi sicuramente ieri ci siamo attivati in maniera fattiva appena avuto il sentore dell'emergenza. Alcune ore di pioggia eccezionale che hanno costretto la chiusura di alcune strade, dei parchi cittadini per precauzione, ma i danni, alcune buche, alcuni asfalti, sono stati molto limitati. Su richiesta della provincia è stato necessario adottare l'ordinanza di chiusura del liceo scientifico da Vinci per delle infiltrazioni. L'allerta però resta nelle prossime ore. Per cui restiamo aperti con il COC e quantomeno è prevista una bomba d'acqua con comunque un poggeramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle ore 18. Quindi verifichiamo con il dirigente poi successivamente se comunque è il caso, considerando le condizioni atmosfere che ci vengono dettate ora ad ora dalla protezione civile regionale, se è il caso di tenerlo aperto oppure chiuderlo. Nel report di questa mattina anche i ringraziamenti dei tre amministratori. Ho dato ordine alla Polizia Municipale di passare ogni 15 minuti sotto alle golene per verificare ovviamente la situazione. E mi preme ringraziare la protezione civile comunale e la Polizia Municipale che sono uscite ad estrarre vivi delle persone che sono passate nel sottopasso di Capacchietti, pur essendo il semaforo rosso, si sono immersi in mezzo all'acqua e hanno tratto in salvo delle persone. Questi sono dei coraggiosi. Un mese fa l'omicidio di Lorena Paolini ad Ortona. Nell'inchiesta della procura mancano alcuni punti fermi. Ad oggi l'unico indagato resta il marito, il servizio. È trascorso un mese esatto dalla tragedia di Ortona. Un mese esatto oggi da quando il corpo agonizzante di Lorena Paolini viene ritrovato in casa sua sul divano dal marito Andrea Ceri. Quel 18 agosto era una domenica. A trovarla in fin di vita, poco dopo mezzogiorno e mezzo, a rientro da un appuntamento di lavoro, è stato il marito oggi unico indagato nell'inchiesta aperta dalla procura di Chieti per omicidio. Ceri, noto imprenditore del settore delle onoranze funebri di Ortona, agli inquirenti ha sempre ripetuto di aver trovato la moglie Lorena seduta sul divano ed aver chiamato la figlia più piccola che intanto dormiva al piano di sopra, proprio per farsi dare una mano con la madre. È lui che chiama il 118. È a lui che proprio il 118, dopo aver disperatamente provato a reanimare la donna, chiederà se è stato tu ad ammazzarla. Ceri ha sempre negato ogni tipo di responsabilità, collaborando con le forze dell'ordine, parlando di malore e comunque ribadendo la propria innocenza. Il quesito dei sanitari quella mattina è dettato dai segni evidenti trovati sul collo della 53enne, segni compatibili con lo strangolamento, confermerà poi l'autopsia qualche giorno dopo. La procura di Chieti, nella persona del PM Falasca, indaga fin dall'inizio contro i gnoti, poi sul registro degli indagati, poche ore dopo finisce Andrea Ceri. Ma non vi è ancora chiarezza su cosa sia realmente accaduto un mese fa in quel bellino trifamiliare di Contrada Casone. Importanti risposte si attendono entro i prossimi 40 giorni dagli esami clinici autoptici. Importanti risposte si attendono dagli esami clinici autoptici che saranno depositati entro i prossimi 40 giorni, anche per individuare con cosa Lorena sia stata strangolata. Si è parlato anche del guinsaglio del suo cane, ma anche su questo non c'è certezza ad oggi. Per Lorena Paolini tutta Ortona nei giorni scorsi è scesa in piazza per un corteo contro ogni forma di violenza di genere. Tra le donne e gli uomini in marcia quella sera anche Silvana Paolini, sorella di Lorena, che fin da quella domenica pomeriggio di un mese fa continua a chiedere giustizia e soprattutto verità. Partiranno ad ottobre i lavori nelle gallerie del traforo del Gran Sasso sulla 24 nel corso di una riunione tecnica di ieri in prefettura Terramostrada dei Parchi. Ha chiarito che durante lo svolgimento dei lavori della presumibile durata di 45 giorni potrà essere aperta al traffico veicolare una sola galleria alla volta, utilizzabile su una sola corsia a senso unico alternato, regolato da apposito impianto semaforico. Nel periodo indicato sarà consentito il transito in ciascun senso di marcia per la durata di 5 minuti ogni 30 minuti circa. Il percorso alternativo dalla provincia di Terramo verso l'Aquila, Roma, è quello dell'A14 in direzione sud fino all'innesto con l'A25 e quindi la percorrenza della stessa A25 e poi per l'A24. Il consigliere provinciale Libera D'Amelio annuncia il rinvio del punto che riguarda l'acquisizione della Banca d'Italia della provincia in consiglio provinciale. Sentiamo le ragioni. Consigliere provinciale Libera D'Amelio, domani va in scena il consiglio provinciale ma ci sono novità relativamente al punto che riguarda l'acquisizione della Banca d'Italia. Un punto di estrema importanza per la provincia di Terramo tutta. Sappiamo tutti che c'era questo atto di indirizzo anche da parte della provincia in merito all'acquisizione appunto del palazzo, l'ex palazzo della Banca d'Italia. Abbiamo stabilito in commissione bilancio tenutasi l'altro giorno di rinviare il punto. In particolar modo mi preme precisare che la valutazione è stata assunta in concerto tra me e il presidente D'Angelo che ha condiviso, che per ragione a carattere amministrativo, a carattere giuridico, c'è stata una valutazione di opportunità politica che ha poi motivato questo rinvio appunto dall'ordine del giorno. Questa valutazione di carattere politico riguarda la richiesta di Gianguido D'Alberto in qualche modo di tirarsi indietro dal momento che è interessato anche il comune di Terramo? Io credo che la provincia di Terramo non soffra pesi e contrapesi di sorta ma abbia sempre agito e deve sempre agire nell'interesse appunto ampio e largo della provincia tutta. Quindi non ci sono atteggiamenti di chi tira da una parte e chi tira dall'altra. È stata una valutazione ponderata attenta. C'erano anche delle riflessioni, ripeto, a carattere giuridico, amministrativo che è stata fatta tra me e il presidente Camillo D'Angelo e si è valutata questa opportunità. Stanza interdetta al pubblico per inagibilità. Il cartello che gli utenti del centro per l'impiego della provincia hanno trovato stamattina proprio in uno dei due uffici del centro per l'impiego che si trovano nella sede di via Milli del Lente. Il servizio resta dunque in una sola stanza e tra un mese il comune di Terramo sposterà il centro per l'impiego nel palazzo dell'ex Cinema Apollo. Non c'è pace per il centro per l'impiego di Terramo che ha sede in due stanze della provincia. Una delle due è stata dichiarata inagibile alcuni giorni fa e stamattina è stata interdetta al pubblico. Tutti i dipendenti sono stati spostati nell'unica stanza disponibile scatenando malumori e proteste da parte degli utenti. Poi è intervenuto lei. Cosa ha fatto? Sì, sono intervenuto perché chiaramente lì volevano spostare questi operatori da quella stanza nel senso che purtroppo avendo chiuso questa stanza inagibile volevano spostare quei tre quattro operatori che c'erano tra Roseto e Nereto. Io sono intervenuto con il presidente e il dirigente lì e abbiamo trovato una soluzione di un'altra stanza dove appoggiamo lì per fare il servizio al pubblico. Ma la provincia è d'accordo su questa decisione? Assolutamente sì. L'accordo è che poi entro 30 giorni, 40 giorni noi ci sposteremo il centro per l'impiego lì all'ex Cinema Pollo come già ho detto ieri in consiglio dove abbiamo trovato un accordo e momentaneamente andiamo in affitto per poi acquistarlo con la regione e quindi ci stiamo là per una volta per sempre. Però questa mattina ci sono stati dei disservizi. Allora questi disservizi... Si sono anche un po' riscaldati gli animi. Sì assolutamente, magari un utente arriva e trova chiuso, magari senza un avviso, senza niente, però il casino c'è stato per una mezz'oretta poi abbiamo ripristinato e tutt'ora tutto il servizio funziona tranquillamente. Dopo la protesta dei residenti è previsto nei prossimi giorni un incontro fra il Comune di Teramo e la Ruzzoreti per la risoluzione dello stallo dei lavori di salita Izzone. L'assessore Arramo annuncia novità anche per quanto riguarda l'ipogeo. Sentiamo. Comincia a muoversi la situazione di salita Izzone in pieno centro storico a Teramo. Lavori della Ruzzoreti che si sono fermati da 16 mesi per il ritrovamento durante la sistemazione della pavimentazione di alcune scalinate datate circa 1800. Ma proprio in questi giorni pare esserci un passo in avanti verso la risoluzione dello stallo e dopo le proteste ripetute dei residenti, letteralmente ingabbiati dai cantieri. Stiamo riprendendo in mano le fila di questa cosa che insomma inspiegabilmente dura per un tempo troppo lungo 17 mesi oggettivamente mi sembra un tempo lunghissimo. Giovedì abbiamo un tavolo fra tecnici del Comune e del Ruzzo dove cercheremo di sciogliere questo nodo che peraltro non mi sembra neanche troppo intricato. Probabilmente come fatto lì per Vico delle Rose e per tutte le vie del centro cercheremo di dare una degna sistemazione che non preveda asfalti di natura autostradale ma probabilmente porfito o pavimentazioni adeguate a quello che è un centro storico che si rispetti. Un'altra data da segnare sul calendario è quella della riapertura di piazza Garibaldi e della sala ipogea. Dopo imprevisti e integrazioni di finanziamento, entro fine anno termina la riqualificazione molto attesa in città. Abbiamo un cronoprogramma rimesso dalla direzione dei lavori che prevede il fine lavori per il 18 novembre per cui speriamo che quella possa essere la data ultima per la riconsegna dei lavori da parte dell'impresa. La Regione Abruzzo ha messo a disposizione 400 mila euro per le opere di dragaggio del porto di Giulianova. Sarà il Comune ad affidare con chiamata diretta i lavori che dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno il servizio. Finanziato dalla Regione l'intervento per il ripristino del fondale del porto di Giulianova, un'operazione simile alle opere di dragaggio ma che comporta il livellamento del fondale, nel senso che la sabbia verrà prelevata dai punti in cui il fondale è basso, ci sono zone dove non supera i due metri di profondità, e trasferita nelle zone in cui è maggiore e supera i quattro metri. Questo consente di ripristinare un fondale con acque navigabili, evitando che le imbarcazioni, soprattutto quelle di grossa stazza, possano incagliarsi come purtroppo è accaduto in passato. L'intera operazione ha un costo di 400 mila euro. Il finanziamento concesso dalla Regione non consente la rimozione e il trasporto con deposito dei sedimenti nelle vasche di contenimento prima dello smaltimento dei fanghi. Sarebbe stato necessario un finanziamento molto più importante di almeno un milione di euro? Comunque, lavori previsti, pur non rappresentando una soluzione definitiva, ad oggi il porto è ancora soggetto ad insabbiamento, daranno una risposta alla marineria giugliese che più volte in passato ha sottolineato le difficoltà di navigazione all'interno delle acque del bacino. Per la gara d'appalto se ne occuperà direttamente il comune di Giulianova e si dovrebbe procedere con chiamata diretta, perché la somma piuttosto contenuta consente di aggirare la procedura di un bando europeo. L'affidamento dovrebbe avvenire già entro la fine dell'anno e subito dopo l'inizio dei lavori, ma prima bisognerà procedere con l'aggiornamento dell'analisi batimetrica che riguarda le correnti che si creano all'interno del porto giugliese. E con questo è tutto, adesso le previsioni del tempo di Marco Di Loreto e poi la pagina sportiva con Fabrizia Cardinale. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.